La prima puntata di Passione Musica Lo dobbiamo fare con tempo perché lei ha tantissimi impegni perché con la sua arte e la sua lirica gira il mondo intero. Certo in questo monumento un po' di meno però gli impegni che tu hai sono davvero davvero molti. Elena è un'artista così affermata, così studiosa perché lei studia in continuazione che è riuscita a creare anche un suo stile proprio cioè la lirica rock. Ha deciso di proporla anche qui questa sera Passione Musica ma soprattutto porta avanti questo progetto affinché i giovani ragazzi possano apprezzare questo stile che proprio per quanto riguarda i giovani potrebbe essere un po' desueto. Ma anche loro stanno imparando ad apprezzarlo. A proposito di questo, della sua lirica rock, questa sera la nostra Elena ci proporrà un brano con cui nel 2012 ha vinto il Cantagiro. Si tratta della Tosca Mix Vissi d'Arte, Vissi d'Amor. Qui a Passione Musica Elena Martemianova. Si tratta della Tosca Mix Vissi d'Arte. 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 Si tratta della Tosca Mix Vissi d'Arte.